we bella tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio farvi vedere un nuovo fighissimo deck da usare con log rider ragazzi siamo arrivati all'ottavo giorno siamo andati all'ottavo giorno questo vuol dire che le vacanze sono quasi finite deciderò però se fermarmi o no a mirabilandia quindi alla peggio avremo un paio di giorni poi di sfalso tra le live che faremo vedremo ragazzi ma come potete notare oggi i trofei sono veramente veramente alti 4552 trofei ragazzi record siamo a un passo dall'arena dalla lega 3 ragazzi 4552 trofei fatti con questo deck ragazzi il deck è quello che vi sto proponendo adesso devo ringraziare ovviamente nadir per avermelo consigliato non è farina del mio sacco ma funziona veramente veramente bene ragazzi hog rider torri inferno fireball moschettiere cavaliere zap pipistrelli e urda di scheletri ragazzi questo deck è molto molto figo perché l'idea è quella di riuscire a giocare bene sulle zap che tira il nostro avversario come vedete ragazzi abbiamo sempre la nostra torri inferno in difesa abbiamo il moschettiere che ci serve per le aperture o comunque per una buona difesa il nostro push principale ovviamente log rider che deve essere supportato dai pipistrelli dal lord di scheletri il cavaliere lo posizioniamo invece davanti come mini push come tappo come distrazione e la zap ci serve invece per andare a pulire qualora ci fossero dei problemi vi faccio vedere ragazzi un fighissimo replay dell'ultima partita che ho fatto ne ho vinto veramente uno stuolo uno dietro l'altro il replay è questo qua ragazzi attenzione andiamo ad aspettare che la barra dell'elisir salga e arrivi a 10 lui un po indeciso sul da farsi vediamo noi con cosa apriamo non me lo ricordo sinceramente aspettiamo ancora un attimino vediamo che cosa c'è di due log rider sono pronti ragazzi scarica log rider lui scarico log rider io insieme ai pipistrelli e i miei pipistrelli come vedete vengono un po colpiti dal mago elettrico un po si salvano e vanno a mangiare log rider cavalieri dietro insieme ai pipistrelli il mio comunque avanza di nuovo ragazzi e ne tira due e ne tira tre adesso è libero ragazzi 4 colpi del log rider 384 danni per 4 sono veramente tanti infatti vedete che la sua torre va a 1250 noi siamo praticamente ancora inviolati aspettiamo i 9 di mana e giù di nuovo il moschettiere ragazzi in protezione della nostra torre più debole sulla destra della torre centrale andiamo avanti ancora lui tira una palla di fuego e quindi noi davanti con l'orda di scheletri e sotto con log rider per proteggere il moschettiere viene infatti zappata l'orda purtroppo noi giochiamo i pipistrelli ma lui mette anche il mago elettrico che quindi con la zap ci brucia anche quest'ultimi log rider ancora vivo ha tirato una legnata 866 la sua torre nostro cavaliere fu il vita livello 12 entra ma purtroppo mette anche lui un cavaliere a livello 12 ovviamente supportato dalla torre può avere la meglio rimane anche a tre quarti di vita si sta avvicinando pericolosamente alla nostra area di gioco andiamo con un bel moschettiere sulla destra della torre di destra a tirarlo giù senza preoccuparci ne troppo stiamo caricando l'elisir siamo quasi uguali siamo quasi uguali di nuovo orda di scheletri e lui va e moschettiere anche lui va con il boia con lo spirito del ghiaccio noi non abbiamo zappa addirittura ma il nostro moschettiere ragazzi ha alloccato il boia la fireball insieme al moschettiere tirano giù sia la torre che la truppa e siamo già molto molto avanti ragazzi attenzione un minuto e 7 dobbiamo difenderci pipistrelli sopra il suo grader purtroppo la fireball è decisiva ma mettiamo giù anche un cavaliere molto molto veloce quindi 1412 la nostra torre in basso cavaliere full vita che adesso può fare anche un bel tappo di protezione per eventuali sue truppe tranne per quelle aeree ovviamente ma lui decide ancora di giocare il cavaliere noi siamo già a 10 di mana da 20 minuti quindi decidiamo di chiuderci proprio a tartaruga in difesa con una torre inferno a livello 9 e ancora giù il moschettiere per non sprecare mana di fianco alla torre centrale a destra ci sono un po di sue truppe ma questa fireball ragazzi è stata la mossa decisiva perché fireball anche lui ma ce l'ha a livello 8 credo quindi non può tirarmi giù il moschettiere costretto a sprecare anche una zap ragazzi 24 secondi andiamo avanti ancora cavaliere contro cavaliere come primo noi siamo a 10 di mana lui era 5 gli mettiamo giù la seconda torre inferno a cornine proprio così a cornine lo grader di là che deve prendere un attimo il cavaliere di nuovo grader per lui e mago zap noi abbiamo ragazzi pipistrelli che all'11 te lo mangiano vivo te lo mangiano e di nuovo ragazzi con lord possiamo fermare il mago elettrico e portarci a casa il risultato beh ragazzi come avete visto non è assolutamente difficile usare questo deck ragazzi basta solo avere la tempistica giusta nel posizionare le truppe beh ragazzi anche per questo video è tutto io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito e vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto anche questo video mi raccomando questo ci tengo tanto che me lo lasciate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani ciao ciao